Introdurre una dimostrazione di Judo all'interno di un simposio filosofico richiede almeno però una premessa e un chiarimento. Quel che vedrete all'interno di questo rettangolo blu non è in realtà che la tessera di un vasto mosaico che stiamo cercando di comporre, quello delle pratiche o delle antropotecniche come ci suggerisce il professor Sloterdijk, che veicolano anzitutto attraverso il corpo la propria intenzionalità formativa. Il Judo dunque rappresenta una proposta, un possibile esempio di come la trasformazione del soggetto possa trovare letterale incarnazione in un sistema di esercizi. Abbiamo voluto introdurre il corpo in un luogo deputato alla parola per promuovere una prospettiva di integrazione di questi due registri e suggerire la possibilità di pensare il corpo come luogo di verità e attuazione in cui scarso margine viene lasciato alla dissimulazione e all'autoinganno. Un aspetto di particolare rilievo questo, soprattutto quando si parla di educazione, è che in riferimento allo sviluppo etico, già Aristotele aveva osservato sottolineando che il giusto diviene tale col compiere azioni giuste e senza compiere queste azioni nessuno avrà neppure la prospettiva di diventare buono, mai più non fanno queste cose e rifugiandosi invece nella teoria credono di filosofare e che così diventeranno uomini di valore. La nostra breve incursione nel metodo judo ci proietta subito in un luogo di transito comune ad ogni forma d'arte, artigianato, pratica, l'inesauribile cammino che dalla ripetizione conduce all'irripetibile, come vedrete anzitutto attraverso la ripetizione di un modello che il praticante inizia a valorizzare le proprie qualità inseguendo l'improvabile meta di un'esecuzione che agilmente si conformi all'attimo presente. Ogni gesto viene eseguito in uno stato di concentrazione profonda dove il corpo e tutte le facoltà sono unificati e polarizzati nella ripetizione. Questo studio di una forma codificata si misura poi con situazioni a variabilità crescente, l'azione acquista maggior dinamismo, l'uso della forza diviene più calibrato e attento a cogliere le opportunità offerte dal movimento. Grazie. 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 fanno un tutt'uno. È a partire da qui che il judo si rivela come metodo di formazione a un'etica del dare, esplorando i possibili risvolti di una medesima azione che di volta in volta contempla reazioni e giochi di forza diversi, vengono introdotti elementi di imprevedibilità e concatenazioni tecniche attraverso cui l'adattabilità dei gesti si sviluppa combinandosi con una sempre più assidua presenza mentale. In questa prospettiva ogni soluzione escogitata da uno diviene occasione di crescita per l'altro. Da questa continua interazione scaturisce un circolo virtuoso di crescente complessità e finezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il processo di assimilazione di un modello trova il suo paradossale compimento in un esercizio che invita il praticante ad uno sforzo creativo e a scendere sul terreno accidentato dell'improvvisazione. Si abbandonano così gli schemi, i ruoli prestabiliti, le forme per aprirsi totalmente al flusso dell'azione e adattarsi ai suoi mutamenti. Grazie a tutti. 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 Secondo la logica strutturale di ogni ritualità, attraverso la ripetizione, si è mirato a creare una relazione bionivoca tra un gesto e una certa condizione interiore, fino a quando quest'ultima non è diventata un habitus, una seconda natura, che il praticante porta con sé al di fuori dei luoghi riparati della pratica. Questa possibilità costituisce l'ipotege di trasferibilità che sostiene alla base ogni forma di pratica, le cui ambizioni educative non si esauriscono nel solo perfezionamento tecnico. L'incontro con l'altro sulla via che porta dalla ripetizione all'irripetibile offre così l'occasione per elaborare un sistema di relazioni d'ordine più generale. E ciò avviene precisamente laddove, abbandonato ogni riferimento a una disciplina di combattimento, la pratica si fa puro teatro, messa in scena rituale e simbolicamente tenta di rappresentare il lungo viaggio che conduce il praticante al ridimensionamento del proprio io, tornato ad essere quasi un feto nel grembo materno, dinanzi alla vastità di una sfera che in sé tutto comprende. Grazie. 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 La nostra piccola incursione acrobazia è terminata. Vi ringraziamo dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.